Durante l'incontro del Comitato di coordinamento per la decarbonizzazione tenutosi presso la prefettura di Brindisi, la CISL ha ribadito la necessità di passare dalle idee ai piani industriali concreti. Il segretario generale della CISL Taranto Brindisi, Antonio Solazzo, ha sottolineato l'urgenza di trasformare le proposte in azioni tangibili per affrontare la crisi produttiva e occupazionale del territorio. Durante l'incontro le aziende hanno presentato 13 investimenti, alcuni dei quali già noti con dettagli sottempistiche, risorse da investire e ricadute occupazionali dirette e indirette. Il sindacato, insieme ai segretari delle federazioni di categoria coinvolte, ha evidenziato la necessità di soluzioni immediate per contrastare l'instabilità produttiva e occupazionale. La CISL ha criticato la decisione di accelerare la chiusura della centrale Federico II senza adeguate alternative produttive e occupazionali, nonostante la fragilità del sistema energetico nazionale. Solazzo ha chiesto che Enel, Terna e il Governo si assumano la responsabilità di fornire alternative e occupazionali con la stessa rapidità con cui si sta procedendo alla chiusura della centrale. L'articolo 24 bis del processo di decarbonizzazione non si limita alla riconversione delle centrali, ma mira a individuare soluzioni per investimenti, rilancio produttivo e salvaguardia occupazionale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia. La CISL ha sottolineato l'importanza di un percorso integrato che consideri anche altri processi di ristrutturazione e innovazione come il piano della Zessunica che punta su nove filiere.